Questo posto, ragazzi. Allora, entriamoci. Questo è qua, voi. Ok. Io, Rosalia, via di Finibaldi, signore della Quisquina e del Monte delle Rose, ho deciso di abitare in questa grotta per la vana del mio Signore Gesù Cristo. Ah, ma io ci sono qua. Ma entriamo. Entriamo qua. Ho otto queste notte. Sì, che è trattissimo. Vai. La gente si si ora buona. È stretta. E' qua. Salve. D'orla. Salve. Salve. Allora, è uscito un'ottima. C'è una persona in là. 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 No, 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 no. No, no, no. Allora, che stessiamo. usciamo di costa usciamo di costa